Sulle note dell'ouverture di Rossini del barbiere di Siviglia si è aperta la decima edizione di Pianeta Galileo, il progetto messo in piedi dalla regione toscana che attraverso una serie di 298 incontri punta ad avvicinare i giovani al mondo delle scienze. Obiettivo quanto mai indispensabile dato che come ha sottolineato in un videomessaggio inviato a Firenze anche il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza, l'Italia deve recuperare il gap con i principali paesi europei sul fronte della formazione scientifica e in questo senso in Toscana qualcosa si muove. C'è stato sicuramente un incremento delle iscrizioni nelle facoltà scientifiche, questo io spero che possa essere davvero dovuto anche a questo impegno con Pianeta Galileo e spero che questo possa dare anche un segnale diciamo di un cammino diverso, cioè più giovani scelgono facoltà scientifiche e spero più investimenti ci potranno essere in questo campo. Investimenti come ha chiesto anche il rettore dell'Ateneo Fiorentino Alberto Tesi in particolare sulla ricerca, vero e proprio volano per l'economia di oggi e soprattutto quella di domani. La ricerca nel mondo è portata avanti dai giovani, poi ci sono professori che sono un po' avanti dagli anni che ovviamente indirizzano i giovani ma sulla frontiera ultima della ricerca in tutto il mondo lavorano i giovani per cui noi dobbiamo anche dare dei segnali perché i giovani possano diciamo vedere che c'è un interesse del paese e non dei singoli verso questa prospettiva. Con lo scopo finale di reinsaldare il legame fondamentale che esiste ad esempio in Germania tra il mondo della formazione e quello del lavoro.